E Maria Carmela Capozzo, 13 anni, la misinformissima che accede di diritto alle finali nazionali di Riccione. Se non è bello, è bello anche con tagli più grandi. Cosa vorresti fare da un grande? Da un modello, perché mi piace sfilare. È evidente che anche il concorso, nato in Puglia per dire no all'anoressia, deve confrontarsi con il fascino che il mondo della moda esercita fin dalla più tenera età. Ma è per questo che il messaggio che arriva dalla giuria del concorso di Poggiorsini, che ha scelto così tra le 22 ragazze pugliesi dalla taglia 40 alla 46 in gara, è importante. Quali sono i criteri di questa specialissima valutazione? I criteri che prendono non solo la contezza della visione, ma anche il portamento, che è una cosa importante soprattutto per una donna. E poi, mi spiace che non sono vicino, c'è da vedere un'altra valutazione, quella dell'anima. E loro, le giovani protagoniste, sembrano averlo recepito. Io sono una finta magra, dipende la 44, anche a volte la 46, dipende i modelli degli abiti, dei vestiti che indosso. Ma tu sei una 46? Sì, 44 e 46. Fieramente. Sì, perché io penso che un vestito debba andare aderente, bisogna far vedere le mostre, bisogna far vedere le forme. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì.